Buongiorno mio caro aspirante trader professionista profittevole Questa è l'operazione che ho fatto ieri, giovedì 12 aprile 2018 Tutto parte dal market profile Come vedi questa linea qui nera è il massimo assoluto di giovedì scorso Ok? La settimana scorsa Questa linea qui rossa è la value area high Sempre dello stesso giorno Il market accelerato a rialzo come vedi Io purtroppo mi sono perso la migliore occasione per comprare sui minimi E beccarmi tutta la manovra E quindi sono stato fuori Ho aspettato il primo segno di inversione Ok? Il primo segno di inversione è arrivato a questo livello qui Ovvero sia al massimo di due giorni fa Della sessione RTH P2 USA Ok? E ora ti faccio vedere nel primo minuto Esattamente cosa ho fatto Perché una volta che siamo arrivati a questo livello qui I grandi operatori istituzionali Hanno un modo specifico di lavorare E te lo faccio vedere dal footprint Innanzitutto ti faccio vedere la candela un minuto Aspetta un attimo il grafico Innanzitutto la candela un minuto Vedi sono entrato qua Il mercato mi è andato ancora su contro Io avevo lo stop qua sopra Sono entrato pesantemente perché Perché se volevano togliere anche questo Pulire questo massimo qui L'avrebbero fatto in una mossa decisiva Ma siccome qui c'era un sacco di ordini E come faccio a sapere se ci sono un sacco di ordini? Bene è semplice Te lo faccio vedere dal footprint Vedi questi ordini qua Questi qui sono tutti stop loss Questi buy and balance Accumulati uno sopra l'altro Sono tutti stop loss Di gente che era posizionata a short E aveva il proprio stop loss qua sopra La gente era posizionata qui sopra Era entrata a short qui sopra Sperando che il prezzo si sprofondassero giù Quindi questi qui sono tutti stop loss Quando io ho visto questo qua Questo rettangolino grigio Che è il COT Cioè il commitment of traders E ho visto Questa sequenza di numeri qua Ho capito che c'era La prima ondata Perché è questo Proprio su questo livello Il massimo di due giorni fa E questo qua Con il COT proprio qui Mi ha fatto entrare subito Infatti in realtà sono entrato prima qui Vedi? E ero giusto Proprio sul livello giusto Qui tac E mi è entrata a rush perfetta Lo stop loss Lo so che è un po' ampio Ma per fare queste separazioni Cioè non è che può fare lo stop o tre tic E poi che ha fatto? Vedi mi ha dato contro Quando è apparso Questo sequenza qui Più questo numero rosso qui Che sono venditori per davvero grossi Venditori istituzionali Che hanno la liquidità Adesso nel mercato necessario Per entrare nelle loro posizioni Ho fatto un sospiro di sollievo Perché sapevo che A meno fine qui Il prezzo doveva andare Infatti ho messo 5 contratti qua Infatti poi il mercato lo ha fatto Vedi? E' venuto giù Per un tic Per un tic Non mi ha preso Lo stop profit Perché ho sbagliato io Ti ripeto Ho sbagliato io Perché faccio queste foto Per te Che vuoi imparare A diventare un trader Profettivo Di quelli grossi Con i soldi grossi Con i capitali grossi E a quel punto Vedi? Quando poi ha fatto Questa sequenza qua Ho rifatto un sospiro di sollievo Perché ho capito Che sono rientrati pesantemente Il mercato è venuto giù Vedi? Per un tic Non mi ha preso Il mio stop profit Che è probabilmente Quello che ti ho fatto vedere qui E' la stessa foto Che ti ho fatto vedere qui Scusami Qui vedi? Poi cosa ha fatto? E' tornato su Va bene? E' tornato su Vedi? Questo qui era il segnale decisivo E loro sono rientrati Con la seconda tranche Di grosse posizioni short Infatti poi da qui Il prezzo Vedi? E' venuto giù Giù Vedi? Boom Ha preso il mio stop profit Di 5 contratti Sono uscito a un bel profitto Ho posizionato il mio stop profit In trailing stop Sopra al COT qui Però purtroppo Poi vedi Mi ha buttato fuori Perché è venuto Sono rientrati I momentum buyers Cioè i momentum buyers Sono quelli che comprano Sui Massimi Specialmente sui massimi Americani Della sessione PIT E hanno riportato Il prezzo su Infatti vedi Poi il prezzo Mi è venuto contro E mi ha Stoppato in stop profit Anche l'ultimo contratto Come vedi E questa è la situazione Del market profile Come vedi Questi sono i primi 30 minuti E questa barra dopo Sono i 30 minuti Mostrando proprio La presenza Di grossi venditori istituzionali Su Questo livello qua Chiave Con cui io sono entrato E come vedi Poi io Insomma Questo è il mio profitto Di oggi Cioè Di giovedì 12 aprile Quindi caro amico Mio Che desideri Aspirare A diventare Un trader professionista Profittevole Per poter lavorare In borsa Hai bisogno Della conoscenza Del market profile Del footprint Or del flow Delle candele Normali Che lasse Dei grafici a candele Ok Più di altri strumenti Che io ti mostrerò Se deciderai Di lavorare con me Ma prima di tutto Occorre Che tu lavori Sulla tua Detossificazione Grazie Alla mia Specifica Detossificazione Per traders Che farà Meraviglia Sia per La tua Arera di trading Professionista E profittevole Che per la tua vita Quindi caro amico Aspirante Trader Professionista E profittevole Se davvero vuoi cambiare La tua vita Nel trading E la tua vita Personale Privata Sentimentale Finanziaria Vivendo finemente Lo stile di vita Ricco e libero Che solo il trading Può darti Nel mercato di future Delle azioni Delle opzioni Allora contatta Almai Adesso Cliccando Sul link Sotto a questo video Io ti aspetto E ti prometto E farò il mio meglio Per adattare La mia Detossificazione Del trader Su misura Alle tue Specifiche esigenze Ok Ciao Da almighty Let's do it Like Do it So See you See you Bye